Strade chiuse ancora da liberare, il ponte cittadino da cantierizzare per un anno e ruspe in azione su ciclabili da realizzare e rotatorie da rendere definitive. Insomma, marzo si annuncia un mese particolarmente caldo sul fronte della viabilità di Pesaro, soprattutto fra cantieri che partono e altri che rischiano di sovrapporsi. Fra un paio di settimane cominceranno infatti i lavori per la manutenzione straordinaria del Cavalca Ferrovia col ponte dei Cappuccini che vedrà opera in azione, soprattutto in orari notturni, per quasi un anno. Un maxicantiere che si insedia, un altro che ancora non si sgombera. Strada Carlone è infatti chiusa dal 14 ottobre e secondo il cronoprogramma iniziale i lavori di Società Autostrade sulla futura interquartieri Enrico Berlinguer dovevano concludersi proprio in questi giorni. Cronoprogramma che però è stato ritoccato fino al prossimo mese, visto che il sindaco Ricci ha prolungato il divieto di transito almeno fino al 3 marzo. Una data che però rischia di essere suscettibile di altri rinvii. Da ottobre la chiusura di Strada Carlone ha aumentato il carico di traffico su Via Flaminia e Via Fratti. Strada quest'ultima che rischia di canterizzarsi nuovamente in concomitanza al perdurare dei lavori su Strada Carlone. Il tema è stato oggetto anche dell'ultimo Consiglio Comunale con i consiglieri di centrodestra che hanno chiesto di evitare questa sovrapposizione su Strada Carloni. Dopo che Via Fratti fu mutilata nei mesi scorsi per i lavori di Marche Multiservizi, ora si allisterà il cantiere per la realizzazione di ciclabile e marciapiede che però non precluderanno la viabilità veicolare. Sembra invece questione di giorni la liberazione di case bruciate dal cantiere di Marche Multiservizi che ha ingabbiato la via principale della frazione dallo scorso 30 gennaio per lavori alle condutture. Intanto continuano anche i lavori sulle siligate col collegamento ciclabile che anticiperà la realizzazione della rotatoria. Da ottobre sono anche in corso altri cantieri di bicipolitana, particolarmente articolato quello di Vismara con un intervento da 450 mila euro che da via Lambro si congiungerà con la zona torraccia dove sono in corso analoghe operazioni su via Gagarin e via Timavo. E poi ci sono i lavori alle rotatorie che diventeranno definitive. Dopo quella di Largo Tremartiri verrà perfezionata in primavera anche quella su via Milano all'angolo fra la statale mentre gli operai sono già al lavoro a Villa San Martino per rendere definitiva quella di via Paganini con via Lombardia. Lavori pure in centro storico dove in questi giorni, fino al 20 febbraio, si chiuderà l'incrocio fra Piazza del Popolo, Largo Mamiani e via San Francesco per il completamento della manutenzione straordinaria della piazza.